Ascoltare i miei clienti e stare a contatto con loro mi ha insegnato molto, così quando ho conosciuto Albo vi ho consigliato il prestito flessibile come voglio, vuoi cambiare data anche ogni mese senza costi e in modo semplice. Puoi avere 14.000 euro con una rata massima di 195 euro, vieni in Fulmanestic e chiamaci all'848 80 40 40.